La 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 la, Momota presenta, non mi ricordo più, Toto e Tata, belloncino rosso, la rana salta il fosso. Accipicchia Tata, cos'è che fai? Faccio quello che mi pare, ti zitto te, faccio una cosa un po' importante. Ma va la sciocchina, è il gioco di passaparola e non si può mica fare da soli, sai? Io lo posso fare come voglio. Se stai buona ti insegno le regole. Oh si, Toto, che sto buona io. Sei pronta? Sicura? Il cestello è vuoto. Un asilello è Toto. Accipicchia, se mi scappa la pazienza. Ma io, Toto, dicevo quello che sentivo, no? Adesso torniamo a cominciare, vedrai cosa ti dico io. Sì, Toto, sono proprio pronta. Tata di fettosa. Frittata appetitosa. Mmm, tata sciocca. Frittata in bocca. Tata di picchio. Frittata con raraticcio. Accipicchia, ma io ho appena... Accipicchia, le insegno io a sentirci bene. Le faccio capire tutte le parole del vocabolario, sai? Toto, Toto, cos'è il tuo vocabolario? Oh, vuoi sempre le spiegazioni, tu. Toto, Toto, cos'è le spiegazioni? Uffi, uffi, ma è nata ieri quella lì. Toto, Toto, cos'è una nata ieri? Ma accipicchia, ma io a te... Toto, smetti di fare arrabbiare Tata, vieni. Ma i bambini piccoli di oggi non sanno proprio niente. Vieni Toto, che ti do il panettone. Accipicchia, se mi piace. E dopo il panettone motta, ecco il minuto che vale 100 milioni. Basta un minuto per compilare la carta d'identità del panettone motta. Un minuto è il vostro nome, cognome e indirizzo. Collaborate all'undicesima inchiesta motta. Per tutti i collaboratori dell'inchiesta ci sono 100 milioni, 100 milioni di premi per voi. E vici, picchia, motta. Gna, 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 gna.